Settima corsa premio Summer Trade, il gusto di una storia, è una corsa riservata a femmine di 4 anni non vincitrici di 18.000 euro in carriera, 1 Bye Bye B, Max Castaldo, 2 Brigidella Marco Stefani, 3 Butterfly Horse, Vincenzo Piscuoglio, 4 Beatrice K, Maurizio Cheli, 5 Baltic Mabel FM, Giuseppe Citarella, 6 Bagheera Gar, Roberto Vecchione, in seconda fila 7 Basta che sia Jet, Edoardo Loccisano, 8 Beatrice Cris, Gennaro Amitrano, rinuncia al lancio Bagheera Gar, stacco della macchina, veloce Butterfly Horse al pari di Bye Bye B che cerca di rientrare, vediamo la prima curva con Bye Bye B che rientra all'avversaria che ora probabilmente si sistema nella sua scia, poi Brigidella in terza posizione davanti a Beatrice Cap che si sistema a sua volta quarta, 14.1 i primi 200 metri con in vantaggio la figlia di Ganymed su Butterfly Horse che si è messa a seconda, poi Brigidella Beatrice Cap, intanto 400 metri in 28.9, situazione ormai delineata con Bagheera Gar che prende il largo però trova l'anticipo da parte di Baltic Mabel FM, intanto arriviamo ai 600 metri in 44.9, passaggio davanti alle tribune, prosegue nell'avanzata Baltic Mabel FM, ricordiamolo con insulchi Giuseppe Citarella, seguita da Bagheera Gar, preso la vede largo anche Basta che sia Jet, ma intanto Bye Bye B, prosegue il primo giro passato in 59.6, siamo sulla penultima curva che sono formate praticamente quattro pariglie con in vantaggio sempre la Biasuziana Bye Bye B che arriva al paletto del chilometro in 1.15.2, sempre in seconda posizione alla corda, Butterfly Horse a precedere Brigidella, sposta ora Bagheera Gar, va a rilevare Baltic Mabel FM, si pone a diretto contatto per ora di Butterfly Horse e cerca di avvicinare la battistrada che percorre in 14.3 la retta di là, ultima curva prende la via del largo, Bye Bye B, ci prova ancora Bagheera Gar, poi anche Butterfly Horse cerca di mantenere la scia, ormai queste tre hanno vantaggio nettissimo, ultima curva passata in 14.5, retta d'arrivo, Bye Bye B nettamente in vantaggio, la lotta ormai è solo per il secondo posto, Bye Bye B regala il doppio a Massimiliano Castaldo, mentre per il secondo costo Bagheera Gar batte Butterfly Horse al quarto, Beatrice Kapp, vittoria per Bye Baby, azienda agricola Biasuzzi, Edwin Lagas al training, Max Castaldo alla guida, la figlia di Ganymede Guidara S viene a vincere in percorso di testa molto bene, mentre rivediamo la lotta per le piazze con Bagheera Gar che ha la meglio per il secondo posto su Butterfly Horse, è tutto per la serata di questa sera all'Ippodromo del Savio di Cesena, l'appuntamento è per domani sempre alle ore 21. Grazie a tutti! Grazie a tutti